Ciao, io sono Anna De Montis e vengo da Utta, dalla Sardegna in provincia di Cagliari. I miei problemi sono iniziati all'incirca dieci anni fa in quanto mi si era spezzato un dente come se si fosse svuotato. Sono andata nella mia regione da un dentista che mi aveva messo una protesi ai quattro denti, dopodiché per motivi non ho continuato. Non lo so, vedevo la pubblicità del dottor Palmos, anche se tendono a parlare da persone che sono venute, ho chiamato e lui mi ha risposto, ha preparato tutto il mio arrivo qui in Moldavia, i medici hanno detto che non avevo prodotto un ditte e quindi i miei denti si potevano stare, erano denti buoni, però io volevo i denti belli e poi avevo questa protesi che non mi piaceva e quindi la mia risoluzione per i miei denti era quella di doverli limare, incapsulare e poi mettere alcuni molari. Cioè non immaginavo veramente una cosa così perché è molto, è ben organizzata ma è anche molto accogliente, i vostri medici sono pronti al sorriso, a darti un senso di tranquillità se ti vedono un po' spaurita, almeno la mia impressione è stata questa, cioè penso che anche per loro, insomma svolgere il loro lavoro seriamente e onestamente, cioè io li ringrazio e sono molto disponibili e affettuosi. Il problema con i denti sicuramente influisce molto la tua persona senza dubbio, molte volte hai cercato di nascondere dovevi fare un bel sorriso, un'espressione un pochino più di gioia, però ti limitavi perché dicevi però ho i denti in questa condizione brutto, farmi vedere così, quindi cercavi di trattenerti e questo sicuramente non va bene perché non potevi esprimere ciò che volevi veramente in quel momento. Allora dopo questo bellissimo lavoro sicuramente lei è contenta e questo è molto quindi sicuramente da adesso non avrà più paura a sorridere che la prima cosa e magari anche le sue preoccupazioni perché pensava, perlomeno sapeva di avere un problema ai denti, non poteva risolverlo adesso che tutto questo ha potuto realizzarlo, sicuramente è un pensiero in meno per lei. Quindi come sono arrivate in effetti ho verificato e ho visto che tutto era come mi descrivevano, però certo che vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa, una struttura molto organizzata, il personale idem, ci sono stati vicini, sempre presenti, disponibili soprattutto e questo è molto, la gentilezza, non sempre si trovano persone così, una clinica molto grande dove ci sono appunto le possibilità di fare diversi trattamenti, non solo quelli che ha fatto mia mamma ma anche qualcosa di più impegnativo, magari si doveva fare, prima si faceva in altre strutture invece qua pensano a risolvere ogni tipo di problema.